...che mi manca, capisci? È quello che viene dopo. Ma mi stai sentendo? No, no, no. Guarda che bagnine! Due bagnine così mi hai preso a fattare la mattina e la sera io. Aiuto! No! No, no! Perché tu? Perché ci ho pensato prima. Aiuto! Yes! Yes! Eh? Regolare la cosa. Va bene, dai. Farò un disparo. Un disparo. Aiuto! Il nemico! Il nemico sta a pagare! Non ce la faccio a salvaggio! Mi prego, venite assolte! Agli autori! Venite! Prego! Sostiazzello! 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 Sono io! Sono io! Aiuto! Oh mamma, come sto a mai! Oh, come sto meglio! Aiuto! Aiuto! Ah! 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 No! Non stop me! Ah! Grazie a tutti!